Stava seguendo le indicazioni del navigatore l'auto articolato rimasto incastrato nel pomeriggio di martedì in via Fiorazzo a Padova. Una via decisamente troppo stretta, quella imboccata dall'autista, per un mezzo di quelle dimensioni che è rimasto fermo tra due recinzioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Padova che hanno tagliato la rete di una recinzione riuscendo a guadagnare lo spazio per far proseguire il viaggio al camion. Il lavoro dei vigili del fuoco è durato circa un'ora sul posto anche gli agenti della polizia locale.